Risponde con la classica maglia bianca, con inserti neri. Adesso pure da... Sono stati mandati dal mister Rastelli a fare naturalmente minuti, a mettere minuti sulle gambe. Trastato dal numero 4 Mandelli, ma ancora Murgia mantiene il posto di palla, c'è il fallo. Sintetico di ultima generazione, nuovissimo, bella struttura anche qui a Barunini dove gioca quest'oggi la primavera rosso-blu per la decima giornata. Palla dentro, giocata verso Malè, ancora Malè ma recupera ancora il... Lizza come secondo portiere, poi manca Pennington, Bernardi, Taccova, il dribbling, poi Arrasin scivolata, non vince il contrasto. Palla recuperata ancora da Malè sulla sua verticale, ancora il numero 11 Sevelini. Palla giocata dentro, ma arriva però di testa da Fabri, arriva a Pina, cerca la scorribanda a Pina, ma viene fermato, rilancio in prima squadra. Nazionale Under-19, calci-punizione, battuto velocemente, palla verso Malè, palla sul secondo palco. Ancora Fabri con le mani, rilancio lungo, mette giù la sfera, il numero 10 Malè, porta per la Barella, il controllo di Puredda, ancora Puredda che però sbaglia. Il tocco per Barella, riparte così, già rimessa in gioco, ancora Fabri. Il gioco della formazione ospite col numero 2 Munari, sbaglia il controllo, poi cerca di recuperare la posizione, il pallone non vi riesce Malè. Serra ancora per Barella, invece riceve Puredda, ancora Puredda che però viene cross, Pina di testa allontana. C'è il controllo di Malè, col sinistro, è tutto mancino Malè, il cross deviato, Montaperto non esce. Giocato corto, c'è il pressing di Murgia, ancora Malè, il dribbling, il cross del giocatore con la maglia nuova di velocizzare la rimessa in gioco, cercando gli attaccanti della Barella, da Barella verso Munari. Sevelini, palla dentro per Malè, ancora l'intervento di Granara in anticipo su Raffini, fa laterale battuto verso Arras, ancora Arras, mantiene il so palla, l'ultima deviazione del numero 9, rosso-blu. Sinistro, poi col destro, mette giù la sfera, adesso Murgia di prima intenzione, sinistro, poi col destro, mette giù la sfera, adesso Murgia di prima intenzione, non gli riesce. Pina per Piras, la sponda verso Murgia, ancora Murgia che sbaglia il controllo, poi c'è il pressing di Pina, però ancora Murgia, tenta il dribbling Murgia. Pallone morbido sul centro dell'area di rigore, adesso Murgia, poi arriva Barella, l'intervento in scivolato, adesso Barella, porta palla a Barella, cerca ma non trova Piras, palla giocata di Sena. Adesso Munali di testa nella zona di Pennington, il rilancio lungo nella zona di Bernardi che però non riesce ad intervenire sul pallone, adesso Male, porta palla.